Caliamo questa questione nella battaglia politica dell'Abruzzo. Esatto, esatto. Il motivo per cui gli elettori stanno, forse, hanno cacciato il centro-estra dalla Sardegna e forse lo cacceranno in altre regioni, è che la Melonia aveva detto, ricordiamoci, io non tocco nessuna legge, poi i suoi governatori e Mulè, lo sai, fanno istruzionismo, mettono i bastoni nelle ruote, selezionano i medici, impediscono le donne di accedere al consultorio, mettono gli orari stretti. Dragoni ha detto una bestemmia, perché la donna ha diritto, a fortuna ha fatto di essere informata e sostenuta. È una pratica, non è un diritto, no Luca, sbagli, Luca, 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 ma com'è che il diritto di scelta c'è solo per morire? C'è il diritto dell'autonesia, è un diritto. Io ti ricordo, Luca, che eri con il rigagnolino di saliva, scusa quest'immagine, che volevi mandare i carabinieri a casa per chi non si voleva vaccinare, e mi vieni a frantivare in coglioni con questa storia, ma non lo puoi fare il paladino. Ragorgi, per cortesia, abbassate, 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 abbassate. Ragorgi, perché andate.